La nostra visione è continuamente ottimizzare la demanda di viaggio e il servizio nella città con continuamente monitorare e predicare il status dei modi di trasportazione diversi. La nostra ricerca è concentrata sui sistemi e analitiche per la real-time assimilazione di dati di grandi e nuove informazioni in order di predicare e ottimizzare il network di trasportazione. Come il risultato dell'urbanizzazione è accelerato nelle città, stiamo stressando più e più le nostre infrastrutture pubbliche, come l'acqua, l'energia e la trasportazione. In particolare, le città collano molti dati sui sistemi di trasportazione. Quindi, nella nostra ricerca, stiamo corollando tutti questi risultati e facendo sensazioni, applicando le tecniche di macchina e le tecniche di data mining per predicare la futura usazione di queste infrastrutture. Quindi, prima di tutto, stiamo collando in real-time grandi quanti di data di ogni intersezione della città. Immagino che un operatore di trasportazione necessita molto rapidamente che un accidente ha fatto, e anche per predicare come questo accidente ha effettuato l'immediato regione. Sono responsabile per la trasportazione in la città, e questo è un tassaggio multifacettico, con molti diversi dati, molti diversi tipi di trasportazione. E, durante i anni, abbiamo creato un'attività di sistemi per aiutare questo. L'involvimento con l'IBM Research ha venuto con un MOU tra l'IBM e l'IBM, e, inoltre, abbiamo trovato i diversi dati che abbiamo, e lo portavano all'IBM Research, con l'idea di potere contatto e più informazione, e, inoltre, come una informazione generalizzata che possiamo usare. La interazione tra i città e i servizi che le città presentano, insieme con i risultati analitici, che abbiamo sviluppato qui nel gruppo di trasportazione, spaventano un'importante ruolo in un plannatore dinamico multimodale. questo è un risultato tipico del nostro plannatore dinamico. In essenzialmente, il città sta muovendo, seguendo un passato suggerito, e poi il plannatore ottimo è cambiato, e, inoltre, il città è un consiglio di serviziare e, inoltre, il città di seguire il nuovo passaggio che è più conveniente in termini di costo, tempo e l'impatto per l'ambiente. Molte città in tutto il mondo è un risultato di serviziare che registrano il traffico all'intersezione per garantire il traffico attraverso il traffico attraverso il traffico all'armamento di città. Questa città mostra un scenario in early morning dove il risultato con rispetto al traffico all'interesse del traffico all'interesse. Il coloro dell'erro indica il traffico all'interesse. Questo, in particolare, mostra un traffico a 6.30 am attraverso il traffico all'interesse. Questa cambia all'interesse all'interesse dei traffico all'interesse all'interesse. All'interesse all'interesse si tratta un risultato e la loro attraverso il traffico inizio all'interesse di fare le migliori le quali gli servizi all'interesse più efficienza e a presto di sostenibilità.